Allora, tre minuti dedicati qui a Moncalvo. Ragazzi, io sono rimasto stupito nel vedere questa bellissima chiesa, la chiesa di San Francesco, che custodisce veramente dei tesori. Qui abbiamo i responsabili di questa chiesa, qui abbiamo il sindaco di Moncalvo, che tra un po' ci abbandona, però è orgoglioso di lasciare questa meravigliosa chiesa. Ci troviamo dove, di preciso qua? Siamo nelle chiese di San Francesco? Qui ci troviamo nella chiesa di San Francesco, nella sacrestia. Questa è la sacrestia ancora autentica, della fine del 1200. Con delle meravigliose esposizioni, un museo bellissimo. Sì, con delle meravigliose esposizioni, vasi sacri, reliquiari, quadri. Venite a vedere, c'è un sacco di bella roba. Lei fa già pubblicità, un attimo, perché bisogna parlare prima. Abbiamo dei quadri meravigliosi. Che sono? Sono i quadri di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, e di Orsola Baddalena Caccia, che era la figlia, che era la figlia di Guglielmo. Ebbene, noi qui abbiamo un'associazione, da allevarci di cappello, perché sono tutti volontari, e aiutano la gente in questo percorso, in questi quadri, spiegando come sono stati e che cosa raffigurano. Allora, Sindaco, diciamo che uno viene a Moncalvo, visita questo paese, che è molto, ma molto bello, entra in questa chiesa, e quindi ha la possibilità di visitare tutta questa chiesa tramite le guide. Non tutti i moncalvesi conoscono questi quadri, ma perché non li conoscono? Perché mai nessuno si è preso la briga, si dice in Piemontese, la briga di insegnare, di spiegare che cosa sono queste opere d'arte. Passano, li guardano, sì, dicono sono belli, ma non li vivono, perché con la spiegazione che queste persone danno a questo quadro, il quadro diventa vivo, e chi partecipa a questi momenti di direzione, perché sono momenti di direzione, vive come la mano del pittore che le ha dipinti. Abbiamo qui anche, come rappresentante, il presidente attuale di questa associazione, che vedo che anche lui è orgoglioso di sentire questo, e di sentire parlare di queste meraviglie su quadri. Assolutissimamente sì, grazie al lavoro che ha fatto Don Giorgio in questi anni, è un orgoglio per Moncalvo avere queste opere restaurate, fruibili per i turisti, per i visitatori, opere che sono andate in mostra anche a Washington e in Belgio negli ultimi anni. Poi invece il futuro presidente di questa associazione... C'è da dire che questa piccola ma grande associazione, dedita a Guglielmo e Orso Lacaccia, ha fatto tanto, anche in pochi anni, perché sono cinque o sei anni che è nata questa associazione. Nei mesi da maggio fino ad ottobre, le volontarie permettono a tutti i visitatori che vengono a Moncalvo per godere anche del buon cibo, dei buoni paesaggi, delle bellezze naturalistiche... La visita... La possibilità di ammirare i quadri dei due pittori di Guglielmo e Orsola nelle tre chiese che ci sono qui. Quindi venite numerosi, soprattutto anche alle scuole, che è importante far conoscere ai ragazzi questa cultura, questi quadri meravigliosi. Con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti. Grazie.